Ciao ragazzi, eccoci tornati con un nuovo post partita, in questo caso ovviamente di Venezia-Napoli finita proprio poco fa, un recupero quasi interminabile, è successo un po' di tutto partita che non era assolutamente facile sulla carta, è vero che comunque si parlava di un Venezia in zona retrocessione, ma mai dire mai perché sono comunque partite difficili il Venezia comunque non mi è dispiaciuto, ha tenuto botta fino alla fine, poi ovviamente il secondo gol ma solo sul finale l'ha stoppata, ma veramente si parlava poi degli ultimissimi minuti, però fino a quel gol là il Venezia non mi è dispiaciuto da avversario devo dire la verità non è stata una partita così facile, non è stata una squadra così semplice da battere però fortunatamente l'abbiamo battuta perché era importantissimo questo risultato che è finito poi con 0-2 in favore del Napoli a Venezia, ricordiamo che era Venezia-Napoli è giusto, a me piace sottolineare che quando c'è la trasferta e quando è in casa lo so che per alcuni non significa niente, però a mio modesto parere cambia quindi Venezia-Napoli finisce 0-2 e ripeto il risultato era fondamentale perché poi non solo si erano visti i risultati vari delle altre partite che erano stati abbastanza importanti l'Atalanta ha perso Inter Milan 1-2, ha vinto il Milan, la Juve gioca stasera e quindi ci sono stati risultati molto molto interessanti in favore del Napoli e quindi Napoli doveva approfittare Napoli doveva approfittare, non c'era senza sé e senza ma, non c'era niente da dire ma solo vincere Napoli ha vinto, siamo contenti, mi sono ovviamente come sempre piaciuti certi giocatori rispetto ad altri ma tutto sommato la squadra non è stata male ovviamente solite cose per quanto riguarda alcune sostituzioni ma parliamo sempre delle stesse cose poi questo argomento lo andremo ad approfondire domani mattina nelle pagelle ovviamente di Venezia-Napoli e poi domani sera e niente detto questo ragazzi vittoria veramente fondamentale, siamo molto molto contenti mi fa piacere perché Osiman è tornato al gol con una rete molto molto bella anche, non facile anche se era più o meno da solo ma comunque in mezzo a due difensori del Venezia quindi gol, ritornato al gol anche Batman-Osiman perché voi sapete sta con la mascherina nera quindi è Batman-Osiman e poi vabbè c'è stato il gol sul finale con l'aiuto, lo zampino come sempre di Mertens e Petagna che poi a porta vuota mette la palla dentro piaciuta la difesa, alcuni rischi ci sono stati però tutto sommato la difesa mi è piaciuta tutto il centrocampo ragazzi c'è quel nanetto lì, Lobotka che è fenomenale però ne parliamo approfondimento domani mattina detto questo ragazzi siamo contenti, io non posso che essere contento per il risultato ovviamente per i ragazzi perché sta andando tutto bene, meno male non può andare sempre male speriamo anche di risolvere il discorso canale ma poi questo è un altro argomento detto questo ragazzi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, come avete visto questa partita come avete visto magari che è stato secondo voi il miglior giocatore o il peggiore o il meno bravo per quanto riguarda casa Napoli, detto questo un abbraccio ovviamente come sempre da me ci vediamo ovviamente domani mattina con le pagelle di Venezia-Napoli ciao ragazzi